Forse qualcuno ieri nel tardo pomeriggio passando nei pressi di Piazza d'Armi avrà notato la bella processione di fedeli partita dalla Chiesa Cristiana Ortodossa Protezione della Madre di Dio in via Candiano. Dopo l'inizio del rito del Venerdì Santo all'interno della Chiesa con i mattutini di Gerusalemme, i fedeli guidati dal sacerdote Sergei Averin hanno portato in processione la Plaza Nizza, la Santa Icona. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.